Ehi Mi chiedo se ci siano davvero voci in ascolto stavolta Io non sento nulla Quindi probabilmente no Però Finalmente posso vedere il destino Che è sempre stato scritto nelle stelle Mentre Pav si allenava notte e giorno nella battaglia Io ogni volta che potevo ero al maniero di Cari A osservare il firmamento riflesso nell'acqua Come d'altronde lo facevano un tempo gli antichi reali di cui tanto ho studiato Ma proprio non serviva a nulla Era solo cielo Ero come cieco Completamente Solo quando ho usato il potere della runa La grande runa trovata in quell'uovo d'ambra Ho finalmente tolto quel velo che mi occultava la vista È stato epifanico È evidentemente questa la sensazione Che alimentò la disgregazione Che altro può essere Cosa potrà quindi significare possederne Due Di questi frammenti dell'anello Elettrizzante Pav Tuttavia Mi aveva parlato Delle sensazioni che percepì assorbendo la grande runa rubata da Godric Ma nonostante quel potere Gli abbia permesso di trascendere ogni umanità È rimasto e resta umile Anche troppo Mi dispiace Vecchio amico Stai facendo tutto questo per me Ma Questa volta Ma davvero Dovrò chiederti qualcosa al di fuori Anche Della tua ritrovata forza Vedo Il destino scritto nelle stelle Ma è una diapositiva sbiadita e violentata Da una forza così opprimente Che ne ha paralizzato ogni futuro Dobbiamo affrontare le terre corrotte Dalla marcescenza scarlatta Pav Devi aiutarmi a uccidere il più forte dei semidei Tre Due Uno SIGLA In Into the void A stark invokes the light Among the parts I'm entering The place where dead things die But I don't feel alone As I proceed I face myself un'aiming for my victory A new age to begin Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Challenge the fields, it's time to go Shadows and storms all around me Do they do what I will do? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera, maestro. Buonasera. Ci siamo. Sta succedendo. Sì, questa è una cosa magica sotto più di un punto di vista, perché è veramente un limite oltre la Blind Run. Oltre. Oltre. Completamente oltre. Due aree di Elden Ring completate. La scelta della terza, indizi di narrazione, indizi da scoprire anche magari di equilibrio di gioco che affronterai proprio stasera. E non solo. Perché mi hanno parlato del generale Radan come di questo grande condottiero, del più forte dei semidei, sempre messo anche nei trailer in risalto per la sua forza e capacità di combattere. Abbiamo visto Kaelid dall'alto, giusto? La pronuncia giusta è Kaelid o Kaelid? Kaelid. Kaelid, ecco. L'abbiamo vista dall'alto e io avevo difficoltà a trovarne il castello. Poi tu mi dicesti no, vabbè, ma non ti preoccupare che non si vede bene da questa prospettiva. L'unica quest che Miyazaki ti fa fare lì, o meglio, la prima cosa che ti fa trovare andando dritto dopo l'ascensore di Nokron è una fight PvP davanti al vaso contro altri tizi. Esatto, che comunque è dinanzi a quello che sembra un colosseo, ecco. E bravissimo, dinanzi a un colosseo. Quindi tutto per ora, per ora, sottolineo per ora. No, ci mancherebbe altro. Punta verso una sorta appunto di arena, che ci potrebbe anche stare in un gioco così grande nel quale devi esplorare così tanto. Non lo avvertirei neanche come un essere derubato di un legacy appunto esplorativo. Sai, sono 200 ore di gioco e in un momento cruciale, in un nervo, ok, del titolo, Miyazaki non ci mette l'esplorazione pazza appunto alla Reia Lucaria, ma come terzo elemento su cinque ti mette un'arena. Del resto, voglio dire, le arene le abbiamo incontrate spesso durante le nostre Blind Run dei Souls e sono state cose da evitare. Tu mi hai detto, no, non facciamo quelle Dark Souls 3 perché ti becchia Arena Spoiler. Magari stavolta invece Miyazaki ha voluto integrare, capito, l'arena all'interno della narrazione. Quindi capite bene che dalla mia prospettiva, e vi chiedo davvero di non scrivere niente in chat, perché voglio in ambedue casi la sorpresa, vi assicuro che dalla mia prospettiva, poi non so dalla vostra, avrebbe più senso trovare una sorta di dungeon di lotte, ok, di arena di combattimento, piuttosto che la terza esplorazione di cinque. Anche perché da un punto di vista di ritmo, ma qui tiro fuori più considerazioni di game design da profano, piuttosto che da teorizzatore di storie, sai, ogni legacy dungeon in teoria deve ingrandire l'esperienza del precedente, non in termini di effettive stanze da esplorare, ma in termini di esperienza. Quindi, una volta che mi hai messo Reia Lucaria come secondo Legacy Dungeon, cosa ti inventi per salire ancora di più? Lo puoi fare? Sì. Ma magari se ci metti in arena di mezzo, elimini il problema di doverne gestire cinque, ok? Ne gestisci quattro. Quindi devi fare solo due dungeon migliori di Reia Lucaria e non tre. Ti posso anche assecondare la speculazione in forma narrativa. Per esempio, se dobbiamo immaginarci quello che hai vissuto fino ad oggi, visto quanto sul serio si prende anche il world building di Elden Ring, specialmente nei dungeon, beh, il castello di Stonevale è un luogo depredato da Godric che ha assunto il ruolo di re in maniera abbastanza usurpante. e che si nascondeva da malenia e da una forma di enorme, diciamo, sconfitta morale e, diciamo, sinceramente disperato tentativo, come dicevi tu, di potersi rimettere in sesto e tornare a casa. Ma tu lo hai trovato, tra l'altro, all'entrata, superata a certe mura, in preda a deliri dinanzi al cadavere di una viverna. Ecco, mentre Renala, rinchiusa, perduta, impazzita per sofferenze d'amore e così via, all'interno di una scuola resa fortezza, sono due luoghi che ti portano a pensare esplorazione e dungeon crawling. Bravo! Mentre il semidio più forte di tutti, il grande generale, guerriero, flagello delle stelle, di certo non lo trovi immaginandolo alla fine di un labirinto, ecco. O in una reggia a godersi la vita. Sì, esatto. Non è quel tipo di personaggio. Poi, è chiaro, volendo essere precisi, è vero, ci hanno raccontato di una festa nella quale ci si confronta in combattimento, ma magari quella festa non si farà mai perché noi andiamo a ammazzare General Rodan prima di questo evento o dopo. Certo, esatto. Penso anche a Martin e penso a quanto sarebbe coerente con Martin l'idea di un punto focale della narrazione basato su un torneo tra campioni. Ci sono tante evidenze che mi portano lì e sono curioso, magari leggimi qualche commento nella tua chat, io leggo qui. Sì. Sono curioso di sapere se ci sono state altre persone che l'hanno pensata come me o magari è solo il mio strano percorso a portarmi ad aver fiutato questa eventualità. Tu, per esempio, tu Mike, cosa pensavi? Terzo dungeon? Allora, per me è successo qualcosa. A me è successo qualcosa che non so se accadrà anche a te, ma sono sicuro di potertelo raccontare prima di quanto non sospettiamo, sia in chat che nella mia pianificazione della tua avventura. Perché, permettimi di dirti... Accidenti, come faccio a dirtelo senza esagerare? Diciamo che ho avuto risposte piuttosto in fretta per il percorso che ho fatto, ma comunque mi aspettavo un gigantesco castello come Stonevale. Ok, quindi tu al contrario non ti aspetti la Tournament Arc. Io in Blind non mi sono aspettato la Tournament Arc, non per Radhan. Io mi aspettavo che il torneo di cui parlava Alexander, the Warrior Jar, e conseguentemente il buon Blythe, fosse qualcosa di legato a un'esaltazione del guerriero, ma non che lo rendesse il dungeon per raggiungerlo, o comunque l'evento per raggiungerlo. Ok? Questo è quello che mi aspettavo, che fosse una sorta di quest secondaria, non obbligatoria per il gioco. Ok. Questo è quello che mi aspettavo in Blind, ma c'è un ma molto importante che non posso ancora dirti. Ah. Ok, sì. Non posso proprio, ma potrebbe arrivare prima del previsto. Scusami, Daphne. Perché fiuto un po', ribadisco tanti indizi, il cielo rosso, quindi il sangue che potrebbe scorrere all'interno dell'eventuale arena. Ah, sì. Quindi anche cromaticamente mi richiama quella che poi è la skin dell'invasore sin da DS1. Il rosso. Lo spirito rosso è lo spirito dell'invasore. Quindi tu mi fai la terra col cielo rosso, è l'invasopoli. e quindi c'è un grande focus sul PvP. Delizioso. Chissà. Diciamo che entrare in una nuova area è veramente uno dei momenti più importanti nella Blind Run di Elden Ring. Perché tu hai assaggiato la terra dell'Altus Plateau. Però il fatto è che abbiamo a Liurni ha scoperto il racconto la storia e il presente di Ray Alucaria e i reali di Caria di Ranni e Renala della magia intesa come stregoneria e del culto perduto dello studio delle stelle e del destino ormai soppiantato dall'ordine e lui le ha fermate. E lui le ha fermate. Quindi a Caelid ci sarà un'altra storia. Ovviamente. Ci sarà la storia di come il generale Radan ha bloccato le stelle praticamente violentando la cultura cariana della quale in teoria è figlio biologico. Quindi è anche strana come situazione. Come ho già detto nella scorsa puntata potrebbe essere che Radan pur se figlio di Renala viene attirato dalle forze dell'ordine aureo che poi assorbono suo padre perché lui va da Marika. Questo è un tipo di ragionamento che possiamo fare anche perché se è generale è generale di che cosa? Di un esercito e l'esercito in teoria è quello di Leindel dell'ordine aureo quindi ha bloccato le stelle ha bloccato le stelle forse grazie proprio alle magie gravitazionali apprese da quel misterioso maestro di pietra bravo le avrà studiate proprio in nome del fatto che fossero l'unico potere utile a bloccare un potere così ineffabile come il cosmo cioè lui ha utilizzato quelle stregonerie gravitazionali forse proprio per permettergli di raggiungere qualcosa di effettivamente per alcuni blasfemo ma non per l'ordine aureo oppure un'unione di questo più la natura di semidio acquisita Dio solo sa come perché si ritorna a quel problema come il generale Radan diviene semidio sì tra l'altro figlio di Renala e Radagon appunto quindi in teoria nessuno dei due era un dio finché ancora di più Radagon non va in sua introduzione ragazzi però un quarto di logo come semplice appassionato di incantesimi stregonerie di conoscenza e un dio invece in teoria dovrebbe conoscere tutto abbiamo già fatto questo discorso ma lo rifaccio volentieri l'introduzione per ricordare perché ho raggiunto certe conclusioni Renala non è sicuramente divina Radagon non posso darti la certezza però allora Radagon rispetto alla storia che conosciamo è virtualmente impossibile perché il dio qui è monoteista però abbiamo percepito in descrizioni che abbiamo una distinzione tra dei e poteri che influenzano il mondo avatar di questi ultimi e quindi qualcuno che evidentemente diventa il monoteista ma circondato da un pantheon quindi avevi giustamente obiettato che magari avevamo a che fare con una sorta di campione di nascosto di un'altra divinità o di chissà quale potere che influenzasse la terra dell'interregno senza che ancora si sia scoperta la sua origine e ragione però è anche vero che Radagon era un campione dell'ordine aureo ufficialmente cioè a meno che non abbiamo a che fare con la più grande spia della storia dei souls il doppio giudista ocelot marica divinità non si renderebbe conto di questo che è assurdo quindi esatto esatto insomma sotto il suo naso è sotto il suo naso esatto com'è possibile che sia un semidio allora premetto questo ci deve essere una spiegazione e credo sarà anche uno dei punti focali del late game perché ti stanno dicendo continuamente ah è un semidio ah è un semidio e chiunque si rende conto arrivato a questo momento di gameplay che non ha senso che non è coerente con quello che hai scoperto fino ad adesso quindi soprattutto vista la mole di dialoghi e di informazioni sono tante esatto esatto che Elden Ring presenta trovo davvero improbabile che rimanga un dubbio tra me e voi tra me e Mike credo che però indagare su questa risposta in questo momento possa essere particolarmente infruttifero overthinking sì a parte overthinking è proprio una questione di ci possono essere centomila risposte tutte ugualmente vere perché proprio perché è qualcosa che va fuori dalle regole della semplice biologia mamma è divina papà no e quindi è consimidio Miyazaki o Martin possono essersi inventati qualsiasi cosa come ti dicevo l'altra volta Marika mette l'Elden Ring dentro il corpo di Radagon e quindi tutte le persone biologicamente legate a lui sviluppano la semidivinità semplicemente divenire Elden Lord dà tutta la tua linea di sangue il titolo di semidio e i poteri di semidio se hai l'Elden Ring puoi donare la semidivinità chi cazzo ti pare e quindi lui dice i miei figli devono diventare semidei a partire da adesso ed eccoci voglio dire l'Elden Ring l'abbiamo detto l'altra volta comanda le stelle quindi non può comandare forse la essendo legato anche al concetto di crogiolo non può comandare il DNA dei taluni probabilmente sì quindi insomma ovviamente Sparks Sparks scrive ma Radagon ha fiato prima di diventare consorte di Marika ma certo infatti io sto ovviamente parlando di un potere che dovrebbe essere retroattivo esatto c'è la tua linea di sangue la tua linea di sangue è tua mentre stai con Renala e mentre stai con Marika quindi in teoria se tu diventi Elden Lord e hai questo potere schiocchi le dita e tuo figlio diventa magico ci possono essere mille spiegazioni ribadisco e tutte parimenti sensate perché vale la regola dell'autore certo spero che ci venga in qualche modo spiegato perché fino a poco tempo fa vi avrei detto diviene semidio colui che ha a disposizione una runa maggiore sì ma in realtà non ha molto senso perché i semidei erano tali prima della rottura dell'elden ring e prima della rottura non hai rune maggiori perché la runa esiste solo perché l'elden ring è rotto e soprattutto per quanto effettivamente si potrebbe dire che non è propriamente su di sé e in sé Renala rimane non un semidio sì però lì potremmo dire è dentro il feto è dentro il feto esatto ce la siamo risolta eh sì magari magari esattamente con lo stesso principio per il quale noi ci ficchiamo una runa maggiore dentro il corpo e entriamo in sintonia con lei attraverso la saetta così se tu hai l'elden ring intero vuoi comunque donare un frammento del suo potere voglio dire ti faccio un altro esempio sì Maliketh è il nome che sto cercando ecco sì a Maliketh hanno rubato un frammento di runa della morte come si fa vuol dire che forse anche da non rotte queste queste rune possono essere divise quindi Maliketh era un recipiente di questo frammento della runa della morte beh se ci pensi alla fine le rune che assorbiamo sono frammenti della grazia appunto per quello dico no quindi esiste già il concetto di frammenti di cose che possono essere assorbiti quindi magari si diventa semi dèi più o meno in questo modo però ecco semi dèi si diventa e non solo si nasce è qualcosa che non ci è mai stato detto esplicitamente no decisamente non c'è ancora una singola descrizione che parli del fenomeno né di un pregresso precedente però Radagon non è nato semi dèi per forza ragazzi per forza no altrimenti Miriam l'avrebbe detto cioè a meno che il segreto di Radagon è che è stato declassificato cioè era un semi dèi comunque però torniamo a quello che abbiamo detto prima allora Marika è scema cioè ha fatto un dio rivale a lei o quasi generale senza rendersene ma poi i semi dèi non partoriscono altri semi dèi probabilmente cioè dipende non è qualcosa che abbiamo mai letto cioè chissà per ora il termine semi dèo è qualcosa che viene definito comunque nascente dalla dèa Marika e rispondo a un ragazzo in chat che dice oppure semi dèo è un titolo che si acquisisce non per nascita non sono del tutto d'accordo cioè premesso che abbiamo appena detto si diventa semi dèo per forza di cose non può essere semplicemente un titolo sai perché per me perché ci sono i godskin che sono estremamente invidiosi dell'essere semi dèo tanto da spellarli e vestirsi con la loro pelle non è un titolo è qualcosa che hai nel sangue che hai sulla pelle o non esisterebbe un'immagine del genere con la scuoiatura lo scalpo del semi dèo che ti metti addosso perché lo invidiavi diciamo anche che le lyrics che mi ha fatto vedere Mike non sono vere però chi le ha scritte conosce la storia cioè chi le ha sentite in quel modo conosce la storia quindi comunque deve essere in qualche modo coerente con quello che vivrò e allora non mi torna quindi secondo me semi dèi si diventa è vero per forza ma non è un titolo non è un bravo sei semi dèo ti stringo la mano bravissimo non è come Sith senza scaglie bravo esatto non avrei saputo dirlo meglio allora io arrivato a questo punto ok quindi a due regioni due mappe non so come le vogliamo chiamare si si due regioni ecco devo dire che sempre di più Elden Ring mi pare la narrazione più ordinata molto prolissa ma ordinata di software nel senso che allora siamo prolississima fin troppo si e forse più che prolissa di difficile fruizione come abbiamo detto più volte però è super ordinata nel senso che siamo qui a fare un intro comunque concreta si e non stiamo a parlare di filosofia nel bene e nel male abbiamo spesso parlato di filosofia magari arriverà anche qui non si sa però nei Souls abbiamo spesso parlato dei massimi sistemi sì e non arrivava la ciccia sì la ciccia bene o male c'è in ogni puntata quindi hai la possibilità di sbrogliare questa e sbrigliare questa narrazione senza dover fare voli pindarici rimane ovviamente il rebus della marcescenza scarlatta che cos'è da cosa è nata ribadisco ve lo dissi tempo fa per me è il fiore sbocciato nel trailer dopo che Malenia blocca la sua spada dentro il corpo di Radan quindi è una sorta di attacco kamikaze ok che Malenia fa perché non può battere il più forte dei suoi dei e quindi gli dà a lui e a tutti quanti i suoi soldati la marcescenza scarlatta però non sappiamo cosa Radan ora debba sopportare in che condizioni sia come dicevi tu se è lucido non lo è è un Godric è un fabbro delle catacombe di Dark Souls sì esatto esatto non abbiamo idea di cosa davvero faccia la marcescenza se non qualche indizio nei boli rossi ti ricordi? sì abbiamo trovato i boli rossi ti dico anche dove li abbiamo trovati su un cadavere a Nocronopoli per la prima volta e abbiamo visto che la marcescenza scarlatta in teoria ti consuma terribilmente non sappiamo quanto come però sappiamo che la marcescenza scarlatta è arrivata fino a Nocron perché noi ci siamo fermati a un certo punto in una mappa che era piena di fumenti rossi io non mi sono buttato di sotto però in teoria ciò che ho detto contraddice la mia supposizione secondo la quale la marcescenza scarlatta nasce da Malenia perché come ci è arrivata sottoterra non soltanto Malenia no? non soltanto sottoterra a Liurnia tra l'altro e noi stiamo parlando di un evento di Kylid eh esatto esatto questo è un bel quesito quanto è vecchia quanto è anziana la marcescenza scarlatta è un è una una malattia che affligge da sempre l'interregno esatto ottima domanda ok ti stai facendo una delle domande più giuste in assoluto esatto credo che Elden Ring sia forte nel fare in modo di farmi avere sempre gola del boss di turno questo si godric oh mio dio voglio sapere di più su di lui vado da godric ok vabbè godric non era un coglione andiamo da Renala lì si che troveremo una storia vera aspetta ma Radan ha bloccato le stelle come ha bloccato le stelle portami serie ok andiamo da Radan è lui quello sul quale dobbiamo e già ho sentito puzzo di importanza di Rykard figlio di Renala e di Radagon inquisitore ma blasfemo in combutta con i godskin che non ricordo mai come cazzo si chiamano in italiano e i sacriderma sacriderma oh perché ormai mi è entrato in testa il fatto che ci sia un gioco di parole tra godkin e godskin che tu mi dicesti e quindi esatto il nome è talmente brillante che non posso non ricordarlo in inglese sacriderma assolutamente e e quindi immagino che sarà una bella strada verso la verità facendoci fiutare ogni volta l'importanza cruciale del prossimo grande boss e della storia che nasconde a questo punto a questo punto però ti ascolto c'è una domanda che ti volevo fare l'altra volta incalzandoti la faccio ora perché non c'è stato modo vai quando quando arriva la boss fight contro offnir e dai ora vabbè questa è una cosa allora io ho avuto una sinusoide nella blind run alti e bassi continui perché ero misto fra il vabbè ho capito quando è che arriva Clark Kent quando è che arriva Hoara dai che è Godfrey dai si dai smettetela che vuoi che sia e poi andavo si ma quando è che Gideon diventa una nebbia arancione quando è che mi attacca quando è che mi tradisce perché lui vuole diventare Eldenlord che è sta storia che è sta storia no da quando abbiamo visto che esatto però Gideon è sempre una sorpresa no perché alla fine aiuta molto ti riempie di informazione e non sembra avere un po' la a un certo punto ci parli poi magari avrai altri dialoghi sarò curioso di vedere come lo interpreti mano a mano che la storia l'avventura va avanti però sembra più zio paperone che non Patches capisci quindi è strano questo personaggio molto interessante e affascinante però capisco perfettamente ciò che intendi a secondo il fatto che in blind era uguale per me brandi corna più lupicidio non lasciano spazio ai dubbi Sir Gideon Hofnir è un merdone ma non come Soler che non conta un cazzo è un merdone nel senso che è una merda e secondo me ha il suo piano personale ok beh questo mi sembra abbastanza plausibile non è l'ennesima pedina delle due dita e quindi proprio dell'ordine aureo in generale dei senza luce lui essendo the all knowing come tutti i personaggi che indagano sulle cose finisce secondo me per trovare una sua agenda un suo piano personale è un po' aldiano come personaggio infatti Aldia finisce per trovare la sua personale strada e addirittura per essere il boss finale della Scholar non lo era vero in Dark Souls 2 mi ricordo che non esisteva il personaggio esatto perfetto quindi Sir Gideon potrebbe essere un po' l'Aldia di Miyazaki questo personaggio che si appassiona talmente tanto alla conoscenza da farsi una sua idea di come stiano le cose e di come debbano essere portate avanti mi citano Ete noi miei ragazzi ma insomma si il concetto è quello una persona che si avvicina così tanto alla storia al concetto di divinità da volerla poi imbrigliare Sir Gideon mi sembra quel tipo di personaggio lì Lui lo trovi sempre a cercare di raccogliere informazioni e conoscenza affinché nulla gli sfugga Ecco E allora aggiungiamoci anche Martin per raggiungere quell'obiettivo E aggiungiamoci anche Martin allora è un personaggio che in una storia di Martin punta al trono non punta aiutarti a Dito Corto l'hai detto appunto Dito Corto punta a inculare chiunque Dito Corto punta a essere re senza essere re mi spiego perché così non ha neanche la responsabilità di esserlo Esatto esatto sì E The All-Knowing sembra un po' una roba del genere anche il modo in cui vengono disegnate le orecchie sulla sua armatura in generale la presenza delle stesse nella sua tomba Le leggi di Dito lo definiscono una belva Sì Ci sono tanti personaggini interessanti e e viscidi in questo Elden Ring non siamo mai stati circondati da così tanti figli di puttana tutti insieme Sì questo credo sia un una sensazione che tutti hanno avuto giocando questo gioco rispetto a alla positività di tanti personaggi dei Souls che sono buffi no? Sì certo anche qui sono tutti figli di Troia in un modo o in un altro e quindi mi chiedo davvero anche quanta libertà avremo noi e qui chiudo te l'ho già detta questa cosa ma te la ridico sì mi chiedo quanta libertà avremo noi in un gioco che ci racconta di uomini che seguono dei e avverano le loro visioni del mondo si può fare l'aldiata si può trovare la strada di Pav e Joel ecco vedi io adoro fare queste intro con te perché poi parliamo veramente delle mie aspettative ma certo e ti dico che siamo al secondo boss fatto di 5 credo 6 se contiamo magari anche il finale sicuramente insomma è fuori immagino da quelli con le rune maggiori io ancora non so dirti che fine faranno Pav e Joel eh lo so perché perché era molto polarizzato altro che i souls molto polarizzati esatto era molto polarizzato il personaggio di ogni singolo dark souls perché alla fine da subito il gameplay ti lascia la lore ti lasciava intendere che le strade fossero due magari una terza e anzi la terza era talmente ineffabile per i personaggi che hanno dovuto creare aldia per parlarne bravo però comunque al di là di quello è anche un po' un tentarti ma sei tu a scegliere io ho sempre avuto la sensazione di essere il centro del mondo nei souls ok voi potete convincermi viva l'oscurità viva il vincolo ma tanto so io che scelgo quindi dovete tentarmi dovete convincermi e compiacermi tant'è vero che chiunque ti corteggia nei souls ah si ah tu della chiesa nera sei un grande ma che pisello grosso che hai vuoi venire da noi bla 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 qui invece te lo devi meritare di fare lo schiavo e far ridere no perché ti devi meritare di fare lo schiavo si si ti devi meritare di andare al cospetto delle due dita che ti danno ordini non è che ti dicono bravo quindi avremo la possibilità di dire la nostra o sarà semplicemente un marica scelgo te ok mi sembra è una bellissima domanda si 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 e giustamente avete ragione e il mangiamerda dov'è? beh tra l'altro ho mai sentito nominare ancora ma anche gold mask gold mask ora e il dung eater vabbè ora lui sappiamo chi è dai si esatto esatto ora lui ora lui vabbè si si con gli occhialini e ora lui senza occhialini e godfrey esatto gold mask che aveva quel cappello di paglia si si quella maschera d'oro non a caso leggo una domanda di andrea universe che scrive ho solo una domanda come fa il titolo di semidio a essere un titolo legato alla consanguinità se lo stesso godfrey viene definito semidio come dice la runa maggiore di godrick lui non può essere un semidio perché significherebbe che sia figlio di marica viene definito semidio godfrey godfrey perdonatemi non credo proprio non lo abbiamo sempre sentito raccontato come lord elden lord eh si non è mai stato definito semidio onestamente lo controllo vado subito a leggere la descrizione così ti do se venisse definito semidio questo confermerebbe che per forza appunto devi esatto acquisirlo in modo magico onestamente non credo onestamente non credo ma ora ti cerco subito io ho sempre avvertito godfrey come elden lord non divino cioè divino perché è elden lord ma non aveva divinità nel sangue no anzi anzi è proprio è proprio cruciale ma questo è anche simile al giapponese questo il ragazzo ha fatto bene a non far notare la descrizione perché ti farà sorridere ma la fraintesa the first demigods were the elden lord godfrey and his offspring ah no aspetta ah si è vero venne definito in inglese the first demigods erano lord godfrey e la sua offspring cioè the golden lineage e allora non ha torto Andrea Universe no non ha torto è vero in inglese aspetta loggo loggo il gioco aspetta 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 eh ma non credo che tu possa vederlo ah no si è un oggetto chiave è un oggetto chiave beh si attenzione questa potrebbe rivelare una certa forma di politiche di politichese si no è vero è vero è vero non è soltanto la sua offspring vediamo un po' se trovo il mio traduttore no non ce l'ho io qui ce l'hai ce l'hai è lì in cima è la prima ah perché è la runa ok non è la rimembranza i primi semideri furono Godfrey il lord ancestrale e la sua progenie ha ragione non ci avevo fatto caso no ma persino io avevo rimosso cioè parlavo solo della sua discendenza eccetera dei primi però no vediamo un po' e allora e allora ci conferma che si può passare in giapponese è molto chiaro il clan dell'oro vale a dire Yaori ovvero l'elden king Godfrey e i suoi discendenti furono i primi semidei quindi è politica anche qua o forse no non politica e basta ma è possibile credo sia politica dare dei poteri vabbè sì esatto io l'avverto così cioè lui è un semidio perché è umano ma riceve l'elden ring esatto e questo è sufficiente da renderlo un semidio un elden lord è un semidio esatto però c'è da dire che Godfrey è un caso molto particolare perché lui ha letteralmente ereditato l'elden lord e l'elden ring però se questo è vero allora può aver senso che Radagon diventi semidio Radagon sicuramente Radan diventi semidio allo stesso modo ecco tieni una saetta runica dico una cosa a caso e ora sei semidio ora sei semidio certo specialmente magari dopo che papà è diventato elden lord ci sta perché comunque c'è da dire una cosa fondamentale Radan è considerato semidio prima della disgregazione perché l'intro dice i semidei combatterono l'uno contro l'altro a causa della disgregazione ma erano già semidei hai ragione quindi non è che lui era un semidio dopo che ha ottenuto la grande runa a causa dell'anello rotto era semidio prima che infatti è il motivo per il quale ti ho detto in teoria io da elden lord con elden ring intero posso comunque passarti una runa tra mille virgolette cioè un trasferirti del potere alla fine io ti posso passare le anime in dark souls no? sì quindi l'elden lord può passarti le anime il punto è che se non sei un senza luce non dovresti poter livellare eh no hai bisogno di una vergine per farlo se sei senza luce se non sei senza luce godric non può livellare no il suo modo di livellare è stato l'innesto l'innesto esattamente c'è da dire però che i demigod possono attivare la runa e quindi lui aveva i 40 livelli capito? lui aveva la runa attiva su di sé sì lui aveva 40 livelli quindi vuol dire che noi acquisiamo le rune in un modo speciale attraverso le vergini sì e invece magari papà radagon con potenziale illimitato magari papà radagon passa a radan del potere in un altro modo che non è quello che è viviamo noi attraverso i falò ok? sì però ottima ottima osservazione Andrea bellissima i primi semi dei furono Godfrey il lord ancestrale e la sua progenie quindi hai ragione e tra l'altro è il primo lord ancestrale Godfrey qui non viene detto ma in altre descrizioni sì se non sbaglio l'Ambra del talismano sì 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 definisce Godfrey primo lord ancestrale ma non solo nel momento nel quale Miriel ti spara la bomba dicendo becoming the second Elden Lord per radagon evidentemente Godfrey il primo è certo quindi si diventa semidio è ufficiale altrimenti come diceva il ragazzo in chat Godfrey è figlio di Marika e c'è un po' di oltre che l'innesto c'è anche l'incesto esatto e tutto è possibile tutto è possibile storia di Martin e Miyazaki insieme però non credo non credo e ragazzi dobbiamo andare a Kaylid non c'è verso qui abbiamo fatto tutto in teoria eh sì con la fine della quest di Topps ti ho fatto cagare addosso ma non l'ho dato vero lo schermo al maestro no sì l'ho dato io te l'ho dato ma tu non lo hai preso io non l'ho guardato non ho fatto lo sbircio pazzo ma adesso te lo rimando subito guardi maestro guardi che finta che fa devo leggere i messaggi del mercante ah ancora non li ho tolti ragazzi all'altro devo leggere i messaggi del mercante non li ho letti le note le note sì quelle che ho comprato non le ho lette non le ho lette ancora e allora Mocciquarto però ti posso fare una bella lista della spesa nel senso che sempre in nome del giocare con delle pause in mezzo e nel mio ruolo io sono pronto a dirti che hai non pochi offspring di possibili strade allora io devo andare sicuramente dopo questa runa alla tavola rotonda a parlare con Ofnir e questa vabbè quella è una cosa che neanche ti avrei detto è praticamente il clou della live di oggi ok intanto leggo i messaggi poi tu vuoi fare questa listona tu leggi tu leggi i messaggi erano il segreto del precettore il precettore il precettore selvis nasconde un inconfessabile segreto vabbè praticamente fai prima a sorprendermi dicendo che un personaggio non ha un segreto in Elden Ring il precettore selvis nasconde anche lui tra le tante persone un inconfessabile segreto in uno scantinato tra le rovine poco distanti dalle tre sorelle ok la perfida strega della pietra che è selen sembra un'assidua frequentatrice di quei meandri quindi anche selen ha un fantoccio allora lo scantinato tra le rovine poco distanti dalle tre sorelle è quello dei fantocci e fin lì l'hai trovato e sappiamo anche che c'è un fantoccio che è quello di seluvis che però oddio forse il fantoccio di seluvis era proprio quello a forma di selen o ricordo male allora seluvis non ha un fantoccio però diceva stai lontano c'era un messaggio si quello è che aveva l'aspetto di seluvis ora è passato tanto tempo solo il messaggio si era seluvis che aveva messo l'allarme della serie qui ci sono i miei pupazzi non rompe il cazzo non diceva che però dietro c'era il pupazzo di seluvis diceva semplicemente di non andare oltre diceva qui ci sono ricordami cosa c'era scritto ecco basta e allora però mi ricordo che dietro la parete segreta c'era un pupazzone identico a selen giusto? giusto e allora ti direi che siamo stati scammati che la gran signorina che mi hai fatto vedere l'altra volta in realtà è un pupazzone dato da seluvis a selen proprio in virtù dell'aiuto che ci ha raccontato nella scorsa puntata l'aiuto che seluvis dà a selen è cambiarle i connotati in modo tale che non possa essere trovata da regia lucaria avrebbe molto senso d'altronde selen ti dice che la disgusta sentire il nome di seluvis però non di meno i fatti parlano chiaro l'ha aiutata e non so ora ho ricordato ho ricordato effettivamente pensai all'inizio che seluvis fosse un uomo nel corpo di una donna perché trovammo il pupazzone di selen sì 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 ma a questo punto scoperto che selen è stata aiutata subito dopo la cacciata da regia locaria da seluvis potremmo concludere che in verità selen non è fatta così però ti dico una cosina per poterti dare un contraltare a questa teoria che ha delle basi molto solide ma inciampa su un dettaglio il quadro peggio molto peggio del quadro la maschera selen porta la maschera della sua presunta scuola ed è la cosa meno occultante che possa esistere ecco quindi forse cambiarle i connotati non è la risposta ragione però siamo a un buon punto siamo davvero a un buon punto hai ragione lei è l'unica ho fatto anche questa osservazione a portare la maschera da donna quindi non le darebbe alcun alcun nascondiglio sicuro questa identità è vero quindi forse avere un fantoccio non ti cambia semplicemente i connotati noi non sappiamo che proprietà tu acquisisca avendo il tuo fantoccio giusto? non ci è mai stato raccontato nulla sappiamo solo che anche i ranni ha una bambola come corpo perché cazzo ha le crepe in ceramica sì no esatto esatto ranni è palesemente un fantoccio anzi particolarmente poco complesso esatto sì con le corde eh sai un fantoccio apre mi perdonerete se questo inizio di live è particolarmente statico ma insomma è bello ma in realtà sono tra le discussioni più chiare di sempre un fantoccio sai tu sei figlio sia di Trigan che di Naruto o forse Trigan non l'avevi visto Trigan no però ecco Trigan no vabbè diciamo che so a cosa potresti riferirti se non sbaglio ti avevo già fatto questo discorso ma per un altro motivo in Trigan c'è un personaggio che poi probabilmente ha ispirato Kishimoto nel creare il potere di Nagato ok quindi sai un fantoccio ti permette anche magari di avere la mente attiva in un corpo ma rischiare la pelle con un altro finto così se muori non muori davvero boh chi lo sa una sorta di giara dell'anima di D&D sì 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 una cosa avanzatissima ma eh vabbè però mi chiamo Selubis sono il precettore dei precettori sto qua accanto a Rani la strega delle streghe quindi ci sta è possibile no? sì 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 bene bene stiamo facendo un bel connecting the dots visto che sono tanti ah tra l'altro segnati questa cosa per favore nel to do list me ne sono appena ricordato la chiave scintipietra per il campanile ovvio l'abbiamo trovata era già segnata era già segnata vabbè io voglio insegnare Babba a trombare mi scusi fantastico mi scusi mi scusi sta roba ascidi di terra ma che cazzo è sta roba le ascidi di terra è una delle prime cose che hai letto le ascidi di terra sono quei bellissimi mostri che se li storici vanno a culo all'insù e quelli che spruzzano che assorbono aria e spruzzano veleno che se avvelenati esplodono ok è un buon indizio per combattere se li vai guarda che mettili in ordine di acquisizione è più facile ah giusto 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 maestro giusto lei è sempre corretto ok ecco qua spiriti inquieti gli spettri reali striscianti e i loro seguaci sono creature maledette i poteri curativi sono per loro un supplizio non un beneficio gli spettri reali striscianti chi cazzo sono gli spettri reali striscianti ci puoi arrivare li ho già visti ti do una mano perché allora io ricordo solo che abbiamo trovato tanti fantasmi di nobili però ti dico una cosa importante ti ricordi anzi no hai la mappa come si chiama l'ambiente vicino a Igi boh ci guardo per cui l'ho detto hai la mappa allora quattro campanili no Igi stava nella parte a sinistra bravo si sta a ovest sopra la andiamo base quattro campanili Igi è qua eccolo qua strada per il maniero sponda nord rovine del re spiriti reali e c'erano quegli stregoni fake che si teleportavano sono loro no non sono loro no ma ti ci faccio arrivare nonetheless non ti preoccupare che sei a un passo ok rovine reali spiriti reali c'era un boss da sotto un grandissimo pezzo di sfida c'era un boss era un boss che hai anche incontrato nelle rovine di laschiar quelle che ti portarono poi dalla ten il boss di cui sto parlando sono quegli spiriti con una benzina di braccia incazzati come delle faine incessante ok quelli con la testa strana intendi ho capito male capisci no quelli sono dici quelli buffi viola argentati si guarda aspetta non quelli buffi no 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 ok dei tizi che abbiamo trovato anche nelle catacombe no non sono loro no non sto cercando di capire non sto parlando dei mini gargoyle no io dico un altro boss ancora è un boss un po' al flyfico ma forse non stai parlando di lui forse si guarda ti ricordi i cosi che si si teletrasportano si loro ok ok allora ci hanno capito esattamente loro per ci siamo capiti perfetto esattamente loro sono gli spiriti reali loro sono gli spiriti reali ok ok non lo ricordavo apposta ora puoi leggere inizio preziosissimo i poteri curativi quindi se se faccio cure gli faccio danno yes ah ok buono non sai quanto gli spettri reali striscianti i loro seguaci sono creature maledette i poteri curativi sono per loro un supplizio quindi praticamente se io mi curo con la preghierina a Gesù faccio anche danno a loro in teoria esatto io spero di aver capito chi sono mi mandi una foto maestro no no l'hai capito l'hai capito tranquillo mi fido so che l'hai capito quando hai parlato di ritri di trasporto quello ho capito dopo in realtà all'inizio avevo capito male ma sono quelli che cioè sono quelli è quello che mi ha ammazzato ad un certo punto sì è molto facile che ti ammazzino ed è il boss di quelli che sparano le cose con le campanelle esattamente ok ok ho capito adesso l'hai preso ci ho messo un po' ragazzi non ce l'ho fatta tranquillo villaggio della frenesia a sud del grande montacarichi di Dektus sorge il villaggio della frenesia rifugio degli ammorbati meglio stare nella larga l'abbiamo già trovato sì già completato tra l'altro l'hai anche sconfitto è un presunto lord vike eccolo qua sì bravissimo e il montacarichi è qua sì torna perfetto nice top oltre a questo volevo farlo scusate nella lista manca un dettaglio nella to do list c'è l'epifania che ti ho fatto avere no perché ne avresti avuto bisogno ma perché per ottenerla da giocatori quali siamo avresti dovuto necessariamente giocarci quotidianamente il fatto che hai ottenuto l'emote sapienza giusto il puzzle è a ricordarsi dove cazzo sono ci avrò messo un è a nord est nord est va bene ma ci avrò vai 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 est 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 ancora di più molto di più qui eccolo eccolo più o meno lì quello questo qua forse guia ristrutturato al confine ci ho messo un cane ci avrò messo un cane anche la seconda volta se vuoi ti dico anche perché ci hai messo un cane perché sono il maestro e sto molto attento al mio discepolo cioè io ci ho messo un cane con un criterio maestro si promesso e io me lo ricordo fermamente perché sono sempre attento a te perché pensavo alle tartarughe alle tartarughe ok maestro lei è così ingenuo talvolta bene bene è che non ci sono più i cani di una volta esatto ah quanto mi diverto a giocare con lei al den ring vedrai vedrai quanto mi diverto ti dico soltanto per stuzzicarti frasi di questo tipo per dar loro più valore sappi soltanto che un giorno guber arriverà a montare queste dirette a un certo punto di una tua chiacchierata in nome di una frase che ti dissi ma che non posso ricordarti perché altrimenti sarebbe un pochino troppo connecting the dots che non dovrebbero connectarsi ho messo una host di uno dei boss che incontrerò che incontrerai in un momento precisissimo che è molto bello sia accaduto mettiamola così ok 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 bellissimo e guarda un po' non succede niente io qua ti lascio solo per un po' però ti dico una cosa la soluzione è apportata punto e virgola ma io in blind in realtà parte della soluzione l'ho totalmente inconsapevolmente fatta per caso ok e questo mi diverte sempre per pensarlo perché ero convinto che non fosse quella la soluzione però risolvi l'enigma risolvi l'enigma rileggi e che si possa la sapienza illuminarti la via illuminarti la via devi quindi c'è una una reference all'illuminazione esatto tu pensa a qualcosa a qualcosa a qualunque cosa che allora ti ti racconto anche diciamo ai posteri come l'ho risolto io senza darti la soluzione quando ho ottenuto sapienza ho letto sapienza e il processo mentale è durato un decimo di secondo però ero talmente visto che mi sentivo sconfitto come una merda perché era la prima volta che abbandonavo un puzzle in Elden Ring in Blind mi spezzava il cuore ero talmente entusiasta che oltre all'emote ho detto ora sono un vero mago e ho fatto una cosa perché mi divertiva lì convinto di aver scoperto una cosa da Reddit con 10.000 app votes e video esteri a riguardo in realtà avevo beccato la semplice soluzione del puzzle la semplice soluzione esatto allora io non credo di dover fare necessariamente una magia banalmente perché allora cosa succede se non hai le caratteristiche giuste non puoi risolverle l'indovinello non puoi andare avanti in questa cosa mi sembra un po' strano però e poi le magie potete farle anche prima sì tra l'altro forse devo equipaggiarmi potrebbe la barriera no perché Thops non c'entra nulla con Sapienza nel senso che è la fine della quest è un extra è un altro regalo e soprattutto per carità di Dio che cosa gli frega al loro di Tops è vero che questa cosa io la ottengo semplicemente dandogli la chiave sì ma Tops non è stato considerato fino alla morte quindi non giusto giusto allora possa la Sapienza illuminarti la via esatto allora l'illuminazione si fa con la chiara pietra credo io che mi son messo a dire ora sono un vero mago e ho fatto un qualcosa prima di giocare con Sapienza ok ma non mano che fai delle prove ti aggiungo un dettaglino e ci arriveremo assolutamente bella idea guarda ci sei ci sei ci sei a livello di concept ci sei vicino ma non è un consumabile la risposta quindi per ora equipaggiare anche una wand devo fare il roleplay del mago eccomi carino ci sei vicino ci sei vicino forse devo anche mettere però che fai devi droppare la roba di riello cario è impossibile però magari queste tanto le puoi prendere non le devi droppare quindi mi devo mettere anche una una testa da mano perdonami sei stato bravissimo ma stavo guardando lo schermino perché c'è vicino ma sei stato un grande una qualsiasi vai sono sapiente ah ok 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 si è illuminata si è illuminata la pietra si ok però me l'ha resa molto facile maestro e vabbè però intanto io io l'ho fatto immeritatamente perché mi sono messo ah che ficco guardatemi sono sapiente e mi si è illuminata la testa l'ho fatto fico quindi insomma che è illuminata no però ho ragionato sul fatto che erano drop garantiti perché sono fissi basta ammazzare quei granchietti bravo mentre non avrebbe avuto senso chiederti di droppare all'1% la casacca di nonno esatto esatto un po' mostra umanità non ha quei livelli non ha quei livelli però attenzione ah un seme di stella si bravo adesso li chiami anche comunque devo dire che sono poco forti i personaggi full forza ma si si no manchevoli manchevoli si 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 non sono molto soddisfatto di aver abbandonato la katana che comunque come vedete in lotte come queste è casino ce n'era una che avevamo citato vero si sarebbe apparsa una scala di luce ma non è cittaro perché cioè per me hai proprio un percorso fatto apposta e poi io lì in blind dissi e beh certo l'illuminazione e l'intelligenza in ogni caso coglione vado intorno e salgo giustamente invece no giustamente era crollata non era voluto si va in alto qua credo infatti devo dire che per ora abbiamo trovato pochissimi ascensori che hanno l'uscitina segreta mid level si non hanno voluto fare over 2 ragazzi tocca ovviamente andare lì sopra quasi more però guarda c'è il senza testa si vede da qui vicino alla catacomba lo vedi altro che se è una se è una pietra della memoria mi butto con torrent ma non sarebbe affatto male vabbè ma ogni volta troviamo quello cannone di haima martelletto di haima mai sentito dire mai sentito dire ma li hai subiti in faccia li ho subiti in faccia il cannone si il cannone il cannone me l'ha fatto rennala il cannone te l'ha fatto rennala ma soprattutto i maghi guerrieri delle grotte giusto allora stregoneria scintipietra dell'accademia di regia lucaria lancia a parabola un proiettile magico esplosivo aumenta di potenza se caricata concepita dall'epitome di haima giudice dell'accademia ecco perché il martelletto questa stregoneria sfrutta la forza come mezzo di risoluzione dei conflitti le botte le botte beh sì come tutti i giudici no? del resto solitamente in tribunale un giudice ti picchia col martello col martello cioè e con un cannone qualora tu dovessi avere torto ok ragazzi è il momento crack col cotone prendo meno danno è maestro da torrent probabilmente sì 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 guarda è apparso anche sotto torrent è fantastico dovevo provarci sarà la maestra di belluno eccola guarda ok perfetto 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 ah intanto togliamo il cane eh vabbè il cazzo togliamo togliamo il cano bene giusto ci avevo messo il cane per la tartaruga maestro che memoria d'acciaio che ha lei mamma mia ho scelto proprio il maestro giusto è il momento della chiave magica è il momento della chiave magica sì ma prima devo andarmi a prendere le rune giustamente no no Gianfranco ok no no oddio oddio la cacca addosso che mi sono fatto ragazzi che paura la cacca addosso che mi sono fatto amici voi non avete idea è un disastro sta cosa eh ragazzi ah ma questa è la polvere gioellica eh sì non danno rune praticamente i semi di stelle no fanno schifo 90 rune manco forse le capre mi danno di più answer gideon offner ok dove l'ho lasciato siamo davvero sicuri di non essere davanti a un altro segreto incredibile che cambia la blind run per sempre sì abbastanza sì non è possibile arrivare lì con un doppio salto di torrent sì sì certo che puoi senza morire sì ok maestro va bene userò il mio ultimo cotone per questo lo sappia sarà tutta colpa su esatto il mio ultimo cotone un po' un po' di sprint ok si può è certo è pronti i segreti allora è fatta è un indizio per il futuro no ragazzi qui c'è qui c'è un segreto assurdo voi non l'avete capito mi spiace eh no no qui c'è l'elden ring amici nascosto qui c'è l'elden ring vi dico dovete solo avere pazienza mi porta babbo sai doni l'elden ring ci sono mi sa che non c'è un cazzo il nonno qui però guarda lì c'è c'è un ingresso delle luci noi non veniamo da lì guardi guardi maestro vedo vedo c'è quella luce c'è qualcuno c'è qualcuno lì dentro e potrebbe essere in possesso dell'elden ring assolutamente indagore grazie a dei geodata oh mio dio dove sono ora clipi e trovi l'os finale sarebbe credo content proprio eterno si beh in realtà stai facendo qualcosa che è quasi un modo per schippare tipo 60 ore di gioco ma non si deve fare qua ok si c'è una zona in cui se ti avvicini a una parete lei maestro sa che succederà vero guarda ti dico se vai lì ti fermi lì e muori respawni da un'altra parte ok vabbè e allora qui abbiamo fatto l'altra non dobbiamo rifarla però perché abbiamo un mio dio già fatto è il momento della chiave magica è il momento della chiave magica allora non andiamo quindi subito alla tavola no no perché sono eventi particolarmente brevi e per un'ultima cosa prego qui lo posso togliere è un bosco che abbiamo già esplorato mentre qui ci siamo mai stati no no volesti raggiungere subito reia lucaria reia lucaria quindi in realtà questo lo abbiamo questo è un'altra cosina che ti aiuto a cercare perché ti manca un uccello della morte speciale però uno l'ho trovato si sono due a caso e sono due non abbiamo altri punticini d'accordo fantastico allora prossima fermata quindi campanile let's go posso scegliere io si totalmente ok non prenderò quello che volevo prendere che sembrava incredibile perché me lo avete criticato un sacco e vediamo un po' questo che cos'è ma questo è il niente allora questa che cos'è ci saranno altri fantasmagorici nemici fieni di rune ditemi quanti scontri avete scommesso così chiudo anche io la parte di lupi e si va pure quello che mi piaceva un sacco qual era era il cielo stellato cielo stellato che però mi hai detto è il peggiore questo è il teleport che abbiamo sono finiti perché erano tre si tre più la chiave tre più la chiave e allora dai precipizio dell'attesa sia precipizio dell'attesa precipizio dell'attesa giusto si non sto sbagliando si vengo anch'io oh si così importante va bene andiamo Joel precipice blade la mossa signature di archeograudon in rubino omega wow ah ma è ma è per caso la nebbia gialla che vedevo accanto al boss che non riesce a battere all'inizio esatto quindi adesso è un rematch si finalmente è la sua nebbia si che ne pensi potrebbe essere una buona occasione per mangiarsi una po' di carne prelibata hai ragione un po' di granchio forse che dici no no carne prelibata carne prelibata letterale carne prelibata ce ne hai sicuramente ok carne prelibata vediamo eccola lì su accanto alla zampetta pregiata pregiata scusa un bel buff incazzato cos'è che fa è uno dei cibi più preziosi del gioco è rarissimo aumenta l'attacco va bene ecco qua ok dai erede innestato aia 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 no 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 non scherzavo effettura del rapido pagamento ok 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 va bene vuole vuole del perri maestro maestro vuole essere perriato proprio proprio un nemico divertente da perriare questo no no vuole essere perriato il ragazzo ok 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 Sì, quelli sono pariabili Anche questi Sì Maestro Maestro Ho fatto il pario Spada dritta ornamentale E scudo aureo Della bestia L'ho visto, l'ho visto Ho visto il frame Ho visto tutto il rallentatore Maestro, come Neo in Matrix Ho visto tutto Scudo aureo della bestia Va bene È tempo di leggere Dov'è la spada? Eccola Dieci forze Quattordici destrezza Spada dritta E sottile Ispirata a un antico Cerimoniale Gli spadaccini più abili Ne impugnano una per mano Dopo la caduta I discendenti Della stirpe aurea Cercarono scopo E potere Nel passato Beh, certo In realtà Anche Godric È un discendente Della stirpe aurea Sì Un antico cerimoniale Gli spadaccini più abili Ne impugnano una per mano Infatti lui è un erede Ma anche innestato Quindi probabilmente Gli eredi innestati Sono questi spadaccini abili I discendenti Della stirpe aurea Completamente moddati Da Godric Sì Scudo d'oro opaco Con lo stemma Di una bestia Di un leone Sì direi È più leggero Della maggior parte Dei grandi scudi E di conseguenza Più maneggevole La bestia Raffigurata è Serosh È la prima volta È lo stand di Godfrey Questo Serosh Anziano consigliere Alla guida Della stirpe aurea Ma certo Ammazza che bomba di lore È lui allora Serosh è il leone Yes Sì 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 Ed è un consigliere Alla guida Della stirpe aurea Stavo per correggergli La pronuncia Ma non posso farlo Magari è un dono Fatto da Marika Godfrey Magari è una pertinenza Dell'Helden Ring Chi lo sa Però in realtà È una cosa molto interessante È qualcosa che attiene A Godfrey e basta Esatto Sì 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 Però Potrebbe anche essere Che Radagon Non l'aveva Perché era un periodo Più battagliero E quindi C'è stato meno tempo Per creare Quel tipo di apporto Mike B Però A livello di Ockham È una cosa di Godfrey Che Godric Cerca peraltro Di replicare Facendo quel leone Con le lame Un po' Malandato D'altronde Però quello era un leone Mentre Cerosh Non sembra avere un corpo Cioè è solo Sembra Sembra proprio uno stand Ed è anche rappresentato Come tale Nella statua Nel quadro Del trono Nel quadro Nella sala del trono Di Godric Vero L'avevamo visto Ora Da Maestro Ogni tanto lo faccio Ogni tot Mesi Ti Introdurrò Un rischio Di sgridata Fissando Di distanza Telematica Genniok Dicendoti Forse è il caso Di provare Le armi fiche Va bene maestro Accetto il rimprover Perché questa è speciale Ah è doppia Esatto Esatto E in dual Para anche Scusami Allora Le armi in dual Sono speciali Hanno appunto Moveset diversi E Prova a fare appunto L'attacco caricato Però porca miseria Maestro Lo so È tortisi però Non può No Invece è perfetto Perché lui è Mezzo tortisiano Sì no In realtà è perfetto Lui sì Ma è proprio La spada aurea Per eccellenza No no infatti Lui te l'ho fatta provare apposta Perché È appunto Lui È un'arma dual Che si buffa Di potere aurea Guarda un po' l'attacco speciale Esatto È un attacco unico Quello Quindi È l'L2 per buffarsi Sì Però Va senza mana Non ricordo Se è senza mana il buff Aspetta Ah o forse Semplicemente Già ce l'ho E non posso rifresciarlo Aspetta No 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 Va col mana Va col mana Ok va col mana Com'è come arma Gameplayicamente parlando Le dual spade sono sempre fortissime Però fortissime In generale sono veramente Veramente forti Perché hanno Un moveset velocissimo E in generale Non A parte La mancanza di difesa Non ci sono malus Ad avere le army dual Nel gioco È solo bonus Però scala più destrezza Che forza Eh lo so Questa è tosta E non posso mettere Gli ceneri D'alcun tipo Perché è un'arma speciale Infatti probabilmente Te la porti Con te Simbolicamente Ma non sarà Probabilmente una mana Non sarà la mia arma Ma tu hai già detto Tanto di sapere Qual è la mia arma Sì Sì io so Quale sarà la tua arma Non ho dubbi Vedremo eh Ma non ho proprio dubbi E allora per ora Rimane La spada di spade Torniamo un attimo Al Punto di inizio gioco Che non si sa mai Magari c'è qualcosa Un dialogo segreto C'è uno spadone Ancora più grosso Gigantesco Cazzo Io voglio questo Non te lo dico Voglio una roba Proprio gargant Deve far ridere Da quanto è grossa Beh c'è da dire una cosa Se vuoi unire Pav Al suo mezzo sangue Ah sì certo Quello sarebbe proprio Il plot point perfetto Dual spadoni Dual spadoni Sì Minchia Minchia che sperma Dual spadoni Eccola la nostra vergine Sì Ne parlavamo Non ricordo Quante live fa Ma Durante la quest di Verre E quindi c'è una Ammazza vergine Eh Non c'è niente E Beh c'era una porta chiusa Un tempo Qui Sì 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 la trovasti Forse a destra Mi pare Sì Bravo Intanto avrei esplorato tutto Prima di andare via Ah ora è aperta Ora è aperta È proprio aperta Senza Va bene Easy C'era un oggetto L'avevo anche visto What? Re falco tempesta È un oggetto chiave Ceneri di un falco Venerato come un sovrano Dai suoi simili Ai tempi in cui I venti di gran tempesta Ruggivano incontrastati Cioè pre godric Niente più c'è in casting Questo antico monarca È tuttavia molto Altero Direi E rifiuta Di rispondere A qualsiasi Evocazione E infatti è un oggetto chiave Perché non può evocarlo Però magari Ah Allora forse È un È come dire È solo un trofeo O magari portandolo Dalla tipa Riesco a ammanzirlo Chi lo sa Magari posso Flonarlo Ma in una versione Soft Qui c'è l'Elden Ring ragazzi Perché se lo stessi chiedendo La coppia di Disastrosamente Coordinati eventi È a mezzanotte ragazzi Lo guardiamo insieme Abbiamo deciso Sì 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 Ci guardiamo entrambi Possiamo Allora Quale vuoi guardare per primo Final Fantasy VII Fantastico Allora ci troviamo d'accordo Perché io Non sono Iper fan di Dragon's Dogma Mentre Final Fantasy sì Dragon's Dogma È una bella perlina Speriamo Che abbiano Prendito una decisione importante E io qui Professo la mia ignoranza Mentre come ricorderai Avevo addirittura finito Prima di te I sette remake Yes E ti invitai a finirlo Per parlare È vero Ceneri in cui ancora Albergano gli spiriti Usale per evocare Lo spirito del falco Tempesta Dan Odin Odin Spirito di un falco feroce Che rese un fedele servizio Al vecchio re di Gran Tempesta Dei tempi passati Quando la vera tempesta Infurio Il suo richiamo Spinge i compagni In battaglia I venti burrascosi Che lo circondano Riducono in brandelli I nemici L'ennesima evocazione Che non userò Che mi esce Però Ti baffa quella Tra l'altro Però mi baffa Quindi è forte Una cosa Che potresti fare Alla fine Cioè Purtroppo le invocazioni Sono un brutto problema Con le IA Però magari In qualche dungeon La tiene magari Poco potente Di baffa È figo Ci potrebbe sta Direi che ci siamo Ci sei Esatto Se non sono comparse Particolari Robbe No Hai effettivamente Completato E allora Andiamo Alla tavola rotonda Mi rimane altro No Sto facendo local mind No aspetta 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 L'uccello Ah vuoi fare Sì ci sta No certo Per me Va bene Allora Dove mi conviene Qui magari Vedi il mio schermo Per caso Sì Ok Vedo strane mappe Non ti preoccupare Mi sono spostato in tempo Qua Ok Va bene Segnatelo Perché non lo troverai mai Altrimenti È un buco Proprio nel nulla Trovato Ok Ho trovato Trovato Sei sicuro? Lo vedo piccolo Il schermo Ma ho paura Che tu abbia messo Quello più Perfetto Perfetto Era la prospettiva Ottimo Nice Non si preoccupi Yeah Ricordati la notte Ah Si preoccupi E stai attento Perché sarà un po' diverso È un po' diverso? Te lo avviso Perché altrimenti Non si sta mai Potresti pensare Che è lo stesso Che ti ricordi male tu Ma non è così Ma Hanno aggiornato? Sì Hanno aggiornato le cose Sì Hai visto? Ti avvisa Adesso Adesso ti avvisa Sei roba da Sì Dopo tre mesi Quindi non sono l'unico Che si scorda per ore Di gridare l'ampolla No no Non è assolutamente solo tu Anzi Ora hanno anche avvisato Quando ti parla Melina Incredibile Questa è tanta roba Perché Sì sì È una feature interessante Che anche io Avrei inserito A tre mesi Dal gioco Nuova No Aspettate Aspettate un secondo Se no perdo le anime Dall'uccello No 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 Che succede? No no Non ho rune Da runare Ah No ragazzi Che boomerata Eh Devo mettere la notte Accidenti a me Um Bene So carissimo Andiamo Verso l'uccello del malaugurio Esatto Maestro Vedo che ha appena preso delle palle Mica Ah ma lei è già al torneo Lei è già al torneo Esatto 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 Ragazzi quanto godo Se c'è la tournament arc Voi non avete idea Troppo figo Ma tanto non c'è Perché sono ormai Troppo gasato Da questa cosa Sì è una cosa talmente Bella Che Esatto E la vita insegna Che quando ti gasi troppo Come dice il vecchio detto Chi troppo gasa Nulla tournament arc Quindi Maestro Ho fatto il Pantheon Lo so Me lo sono anche visto bene Sìi Assolutamente Stupendo Che bello Quella risalita È stata assurda Ho fatto tutta la terza fase no hit Era l'unico modo per farcela So cosa vuol dire So cosa vuol dire Porca miseria Non c'è nessun Devi andare Messo benino Spostati più o meno lì Chat ditemi un po' se il posto è giusto Preciso perché quell'uccello Maledetto No Allora Aspetta forse ero No però ci sono stato adesso E vediamo un po' Non te l'abbia già fatto combattere Può essere Non te l'ho già fatto Non era diverso Dagli altri Quello che ho combattuto No no lo era Lo era Garantito Allora qui c'è Lui Fatemi È più a nord Dite Sicuri Forse l'ha trovato a casa Vedete Vediamo un po' Qual era No ragazzi Non confondetevi con quello vicino a Patches Guarda un po' Esatto Vai Continua così Continua così Moviti in quella direzione Poco a nord delle rovine Quindi non proprio sopra le rovine Vai un po' più a nord Leggermente a nord Madonna che stronzata E fermati Non troppo E tra le due Grazie Provo a farlo sparare Lì c'è una grazia Aspetta che la prendi Esatto A partire dalla grazia Dove si trova ragazzi Perché più o meno È quella l'area Esattamente a sud Della grazia Ok Ok Godo Un fedino Ragazzi Fedino Che vuole Ah 13 Pirenzi Calaseto Purtroppo A Gianni Stavo guardando lo schermo E la tua build Full poise Eterna Stunlock True combo Dovrò riprenderla Quando Diventerò tossico Anche io Promesso Extreme roleplay Ragazzi Fede 26 Cazzo Int 13 Qui ci starebbe È una scelta Fede 18 Tenebre Eh Vabbè Intanto Mi tengo Questo Che comunque qualcosa Dov'è Ho tolto il talismano Ok Mi dicevi a sud Sì Muoviti a sud Esatto Vediamo un po' Se appare Così sei al sud ovest Così sei al ovest Hai una bussola Usa bene Una bussola E vai a sud Lei ha ragione No anche questi uccellacci Porca miseria Alcuni sono evidenti Altri Questo Questo non l'ho trovato In blind Per esempio Perché ha uno spawn point Tipo di uno spillo In mezzo alla mamma Senza indizi Lo sento Eccolo Ma che cazzo Eh sì Questo ha le ali Ed è molto più forte Dei suoi amici Eh Ma no Io avrei fatto più attacchi Bastardo Oddio Ma cosa Forte Ok Devo rispettarlo di più Eh lui sì È bello fortino Sappiate che questi sono Gli ultimi pvp Senza Non penso sia perviato Un piccolo passo in avanti Per un personaggio Con le magie avanzate Un'arma gigantesca Comunque Anche se Aspetta Devo mettere notte Che palle Già Poi evocherò a Gianni Gli spammerò Stars of Ruin Fin che non muore Ininterrottamento Ma perché Non so perché Non era sufficiente Mettere uno spawn point Di un pixel Sì esatto Esatto Ma che cazzo Via Ho fatto un po' Di panic roll Amici Un po' Qualche panic roll Occhio alla sigla Vento Sapete che il target Mi dà solo fastidio Mannaggia il cazzo È bravo Benvenuto Negli uccelli della morte Dove gioco a monster hunter E mo ti becchi St'attacco No devo rispettarlo Ok buono Non importa Ora in porta Bere È buono bere È buono bere Ok Attenzione Buono Buono sì Meno buono Via dalle palle Via dalle palle Bere Buona bevutina Buona bevutina Via Via Benissimo E questo è mio Eppure questo No Che pezzo di cazzo Baby 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 Non so cosa sto facendo Ok Ok Easy E che cazzo Le preghiere Ho bisogno di preghiere No Ok 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 Oh No No Ok No eh Bello questa Via 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 Stava diventando ossideropoli Questo ottimo Colpo via Che coglioni No ma ammazza Mi sa forse no dai No ok Però ma devo stare attento aspetta Bevi Buono Eh lo sapevo Ma va bene il trade andava bene Via Cazzo che roll de merda che ho fatto Ok Ti prego ti prego ti prego Basta con sto target Oddio oddio Però No Poteva andare peggio Sì sì per carità Che cazzo No 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 Sì Sì Oh 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 Comunque Uccello della morte Direi sempre di più Perché è legatissimo Alla runa della morte E in parte direi Alla fiamma nera Che abbiamo visto Dai sacri derma Anche se non appare Quel logo lì Però magari Questo potere È L'inizio Dello studio Che porta poi Alle magie Sacri derma Diciamo che loro Sono molto importanti Da scoprire attraverso Le descrizioni Di quello che droppano Allora Richiamo del rancore Se non sbaglio È la spell Del Traghettatore Là della barca Eh Non Credo che tu L'abbia raggiunto L'abbia ottenuto Da uno dei Ucciditi della morte Ah ok Comunque sono necromanzie Strigoneria dei servitori Della morte Evoca un'orda Di spiriti vendicativi Che braccano i nemici Aumenta di potenza Se caricata Sono le ceneri Dell'antica Maledizione della morte Prelevate dalla fiamma Spettrale Ah si trova a Stormvale Richiamo di rancore Ok Perché Ok la versione debole Perfetto Prelevate dalla fiamma Spettrale Dai necro Rapaci Cos'è la fiamma Spettrale Un'altra fiamma ancora Troppe poche fiamme In questo gioco Si esatto Non ci sono più le fiamme Di una volta No Però ecco che Hai trovato un'altra fiamma C'è da capire Se questa fiamma Spettrale E la fiamma nera Sono collegate o no Ok Mi riposo E andiamo Nel Alla tavola No Nel segnalino Che mi ero lasciato Questo qui Ah vuoi andare a fare Ah vuoi proprio Chiudere tutto prima Ok Eh si 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 Andiamo Ce la lasciamo alle spalle Poi l'Urnia Ma certo Cioè non ci torniamo più Di merda Voglio andare Alla tournament Ark Comunque Si quindi Le necromanzie Sono quelle utilizzate Dagli uccelli della morte Lui aveva proprio Una coppia d'ali Fatta dello stesso potere Si C'è un'altra grazia Minchia Non avevo trovato Nessuna grazia In questo lago Poi utili Cazzo Grazie nel nulla Eugenio Avevamo deciso Eugenio Miazzachetti O Miazzachelli Non mi ricordo Servirebbe il blocco Noto per quello Ah ma C'è qualcosa di interessante Ah è vero Ti manca anche Una Ti mancano ancora due cosette È vero Ma poi le Non avevo visto la tua mappa È vero Un'altra grazia Ancora Ragazzi È pieno È pieno Maricast 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 Tartaruga? Eh sì Momento tartaruga È il momento tartaruga È il momento tartaruga Circa tre animali Saggi Yeah Eccone uno Ah questo è palesemente Un animale saggio ragazzi Guardate È un Boh Occhio Quello zombie è un indizio Quello zombie è un indizio Riguardo cosa? Su come trovarle Ok Nel loro cosa fanno? Si fanno inseguire? Stanno indicando la La via? No Magari L'attacca Guarda come sono agili Sti zombie Dove guardava lui? Quello di prima? O questo? No Questo Di qua guardava Ah merda È il momento Cucri No Eh ragazzi Mi spiace È finita La rana è finita Non c'è soluzione A questo animo No Ragazzi Ma che sola sono Sti espelli Ok no Funziona Ok ce n'è un altro Che guarda qua Cosa cazzo guardi? Lui stava guardando Quale semente È sospetto maestro lui È sospetto Lui è estremamente Sospicioso Ma non c'è nessuna tartaruga E invece sì Ta 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 Era sospetto maestro L'intelligenza di Joel cresce E di Joel Di Pav Ma non ricorda il suo nome Possibile teleportarsi E dentro siete pronti Alla pietra della memoria Numero 9? Sono fondamentali Per un mago Poverini Pronti? Pronti a questa splendida Torre di Uh Ok Non penso di aver mai visto Questo posto Ma troppo lì Questo l'abbiamo già visto Torre di testo Adesso se il Miyazaki è un figo Teleport All'angle Dai Diretto Da Liurnia Ma no ma non Cioè che vai a finire Questa è Landel In teoria questi sono i colori di Landel No O forse questo è Stormvale Oddio Troppo muschi No Sto finito Torre di testo E studi sopra Ok Non puoi essere deluso Sono artefatti di build fondamentali Vabbè Vabbè Pensa se fossi stato un mago Pensa a Joel Quanto ci tiene No no è vero È vero È vero È vero Comunque dicevo Questa è Landel Fammi Non riconosco No è Storm Stormvale Però non Il muschio c'era Stormvale Così tanto No un tempo sì No quella è molto Stormvale Mi sembra da piccolo Lo vedo in piccolo Ma mi sembra molto Stormvale Stormvale da piccolo Ok E anche questa è fatta E mi diceva maestro Che c'è un'altra cosa Che ho dimenticato Sì Guarda un po' Zoom Allora C'è una cosa che voglio verificare La prima è Che è molto importante Allora Intanto segnati La miniera Che hai palesemente Schippato Lì a Questa Est Sì E poi mi fai un favore Mea culpa Ma Mi fai un esplorazio Abbastanza Sparsa Qui Tra queste rovine Queste No guarda il mio schermo Ah no ah ok Sto guardando il tuo schermo adesso Allora ok Qui Qui Dove Sono borghi dell'accademia Sì un po' Prima Cioè Oddio forse Qui Credo O forse Vado prima la miniera O prima In questo posto Che mi stai indicando Oh mio dio Sto a posto Sto a posto ragazzi Allora Niente di rotto Vai pure Prima Ah no ok Mi danno ragione Mi danno ragione Allora vai prima Dove ti dico io Aspetta ti faccio vedere esattamente Perché I miei segnalini a volte Mi stano di un po' Ma stavolta no Sei morto No 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 Ma è Cosa cazzo è successo No no c'è un po' di lag Stavo ricaricando Perché l'SSD Si era Si era bloccato Non caricavano bene Gli asset Ma è un trucco Un trucco insomma Da giocatori navigati Da bestia Esatto Le bestie sagge Non trasmettono saggezza Sì Esattamente Dicevi quindi Dove andiamo prima Dove indicavi tu adesso Sì Dove sono le rune Maestro Oh no Sono derubato Delle mie rune Devi pensare Dove eri 3-4 secondi prima Morto Le ho mentito E saranno sopra Dettelo vero Oh ragazzi Erano tipo 8k Io non li lascio qui Perché sono un coglione Che cazzo Ok ci siamo Saranno qui dai No no Il gioco mi ha scammato Le rune maestro No no Saranno E che non so Dove eri morto Saranno sopra La torre Sul tetto Da cui si è buttato Ma non mi sono buttato Da un tetto Mi cito Lei non si fida Maestro Le giuro Non sono caduto Da un tetto Allora maestro Un bug Me le ha ridate Ma le giuro Che non erano Sulla torre Le giuro Elden Ring Sta ancora venendo pacciato Le giuro Che non erano Sulla torre Glielo giuro Ho chiesto Un attimo All'assistenza Fra un software E mi hanno fatto Un refund Le live lunghe Arrivano dopo Il cambio di schedule Tra una settimana Vedrete Vedrete Stai benissimo Sto Una crema Faccio rivedere Ecco Sì sì Ma mi sono messo Un segnalino Ah ok perfetto Maestro Maestro c'è una tempesta Di fulmini Eh dove ci sono le siaette Carine Che non servono a niente Ah non servono No maestro Vabbè no Ci puoi craftare cose Molto forti Danno di una chela Di aragosta Metà vita Un fulmine Che mi colpisce In faccia Graffietti Maestro Maestro c'è una campana Ah eccola Vabbè intanto Faccio quella campana Va bene Questa non sarà facile Ok vai vai Oddio C'è un esercito Di gente Qui Di senza testa E immagino Che respawnino Queste merda Ah no Si teleportano Direttamente Deliveroo Deliveroo Ha ordinato lei Un parry Quanto mi divertirò Con la spada Di adula Cari amici E con gli incantisimi Avanzati Bell fight Eh dai Attacca Dai che sei uno sfigato Eh sei morto adesso Ha ordinato lei Un parry No Missato Ok Ma basta Con queste Questi mezzucci Da Godric Ok Ok Vabbè Andiamo verso la campana Regà Ci sta Arrivati Arrivati a questo punto Non penso che possano più Impensierirci Allora Eh però la campana Non ha Mi sa che sono loro La condizione per la campana Allora Eh ci ho messo un po' A risolvere questo Mausoleo La campana Non ha I soliti Cazzetti della morte Esatto Anch'io ho pensato Di ucciderli tutti Mi sta forse suggerendo Che non è la soluzione Sottilmente Ci ho speso un'ora A ucciderli tutti Convinto di aver trovato La chiave Ma non era La chiave Ma non era Allora Forse ce n'è uno In particolare Escludiamo gli avversari Ah ok Lei mi sta proprio guidando Qui In questo caso Sì non è niente Di particolarmente Escludiamo gli avversari Allora forse C'è da fare qualcosa Qui C'è da entrare Nella grotta No ma non è possibile Però stai cercando bene Comunque Entrare nella grotta Effettivamente no Però Però qualcosa Qui nei dintorni Dobbiamo escludere i nemici Yes Aia Ok qui c'è una Corrente ascensionale E se io prendo la corrente ascensionale Poi posso tornare giù Sì Buttandomi sulla corrente Sì ok Salto sul mausoleo Ragazzi Vi giuro Smart Ok Ha funzionato Smart Bravo Evviva Non aprire la porta Per l'amor di Dio Grazie Cosa sarebbe successo? Parlavamo di Giocatori navigati Dimmelo tu Cosa sarebbe successo? Sarebbe molto arrabbiato Il mausoleo? Sì Alla mausoleo Non sarebbe fregato niente Mai Geodata È allo status Di morte Del personaggio No Che si clipa tutto Si spacca tutto Entri Spondi Ah l'hanno tolto quel bug Immagina allora che non ti faccia più aprire Spero che non ti facciano più aprire No No Sì Bra Ok gli è bastato Salve Ma sei ancora malato fra Ti va bene lo stesso Va bene Ancora dei problemi Maestro Perdonami Ti ho usato come esperimento Ma Però vabbè La classica Facciamo a prescindere Quella di Accucciati Auretmo Preciso Come? Ah beh La duplichiamo a prescindere No Dovrebbe avere No? Non duplicare niente a prescindere Ok No 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 Duplica solo quello che potrebbe esserti utile O interessante Quindi per ora D'accordo E questa è fatta Abbiamo detto però Prima di andare nel luogo Indicato dal maestro Yes Tu sei entrato quindi No Non in blind Ma Dopo Mi raccontò Carigno Tobi Che ci provò Ok E poi ho visto cosa succedeva In altre partite Drammatico Drammatico Ma Però magari trovi Dal Den Ring Esatto esatto Ma questo? Ma cos'è? Fortuna che tu l'hai trovato ancora attivo Ok La seguo Fortuna che tu l'hai trovato ancora attivo Perché si può disattivare Sì? Capirai Signor Leopoldo Vada piano Si chiama Leopoldo Joel Lui aveva una macelleria Ma odiava il salame Diceva che era un saccato impuro Che faceva venire i brufoli Leopoldo dove ci stai portando? Leopoldo Leopoldo era un uomo di poche parole Non era semplice Non era semplice vivere la sua vita Concentrato Esatto Con questa visuale Inclinata di circa 45 gradi Però aveva buon cuore Leopoldo mi stai portando alla caverna dove sarei andato a prescindere? Esattamente Esatto And that's it? And that's it Avresti idea Hai dovuto vederlo nei tuoi occhi Ma Mi sa che c'era Quel giorno lì L'Erasmus C'erano i ragazzi di Game Freak A fare questa parte del gioco Di Elden Ring Sì 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 Cambio culturale E basta è finita così Questo tizio ti porta Sì ti porta nei posti Che si vede Grossa comunque a tere Sono felice di non averti fatto le poste Perché sapevo che eri un personaggio figo Non volevo farti le poste GG Bello il combattimento Va bene Va bene Anzi questo lago Non il miglior momento di Elden Ring Facciamo l'ultimo E poi preparo per il talk show Dell'evento E poi spero Non è che è brutto Ma spero Basta P2P Così si va un po' avanti Nel clu dell'episodio Che è la seconda luna Ricordiamoci che dobbiamo vedere ancora Le prigioni dimensionali di Kaelid Di Kaelid Vero Allora facciamo prima questo qui E poi andiamo alla grotta Ci sono maestro Sono dove mi ha chiesto Ok esploriamo un po' Eppure mi pareva di averlo esplorato Sì ma c'è una cosa che non mi sconfino Mi ricordo bene se Esatto Non ti fallo sconfino Sì si esplora lì nell'area Io Esploro tutto quello che vuole Oh forse è questo oggetto No maracoglio Ma Ma Diallos Esatto Lui l'ama Ok Non ha altro da dirmi Sì Ricordo male Non mi avevi detto che l'avamo Che è legato a una certa storyline Lo stai violentando Ma è bellissimo così E quindi questo ha fatto fasare la quest Esatto Però anche loro sono stronzi Cioè tu fai così E non te ne rendi conto Fatto apposto secondo me Fatto apposto Comunque si l'hanno proprio trucidata Poverina Sì Non avrei potuto salvarla vero? Non ti ha dato No Non ti ha dato Mi pare che ti dia qualche input Magari sul colpevole Ma non sono sicuro Penso che ti dica No Forse è ancora presto Non mi sembra Mi abbia dato Mi hai sfuggito Ma non mi sembra Mi abbia dato un input Ma è giusto farlo Prima che si torni Alla tavola rotonda Così Ti racconto un po' Vado alla grotta Sì Sì Io Manca poco all'evento Però ci siamo Dai Ah è vero Sono i 45 Cazzo E ancora non siamo andati A Kaylid È stupid No guarda È incredibile Ma c'è Lose hands Proprio completati Però Eh vabbè Però che cazzo Se non giochiamo così Che giochiamo a fare Esatto 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 Cioè tu vai a Kaylid Con le quest Fatte Tutte La lista della spesa Completata Qualche livellino in più Visto che Kaylid In teoria è spaventosa Assolutamente Oh mio dio Cos'è questo? Ok Funeria 3 Cazzo sta l'entrata Ho portato Leopoldo prima E io l'ho disdegnata Leopoldone Eccola Bene Oh c'era qualcosa Dove? È a metà strada C'è anche una Grazie all'assolto Ma guarda Ah sì La classica metà strada Ok 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 Sì sì Ci vado subito Ovviamente Mi sono girato solo Dalla parte sbagliata Dio madonna Aspettate che Prendo la gravazia A questo punto Così se mi butto Che sbaglio male E moio Non mi disintegro Ok l'ho visto Nice Qua tipo Vai Yes Ah e basta Cristallo inclinato Ma magari posso fare poi I saltini pazzi Sì 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 puoi puoi Verso altri luoghi Incredibili e magici Devo solo capire Come Ci sono delle strade intermedie Meno male Meno male che ho preso la grazia Ragazzi Ok questo è safe Fantastico Questo è safe Ricordati che hai la lanterna O le torce Giustamente Quindi ho fatto tutto questo Per un paio di cristalli Inclinato in più Sì Vabbè Sì Salve Loro non li abbiamo visti Trafficare a Kaylead Con degli strani Viaggeggi Che Colpivano i cristalli Ah di Kaylead Vedrai che avremo modo di parlare Quando supererai i confini Della marcia scienza Comunque loro hanno dei cristalli addosso Mamma mia Guarda gli occhi Guarda Esseri bizzarri Oh c'è un altare Lei stava pregando per caso Sono degli spellcaster Comunque loro Anche La skin della cassa è Sì Particolare Ho una pietra da forgiatore E la statua È dell'ennesima Madonnina 23,50 Amici Ma ce la dovremmo fare Devo solo sincerarmi Di non lasciare nulla al caso Ecco sì Proprio a loro Facevo riferimento Sì 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 A questo processo qui Esatto Finalmente lo vedi Quindi loro utilizzano una spell Una magia Sì sì Io non avevo capito che lo fosse la prima volta che ci siamo teletrasportati Certo perché è rienterrorizzato È una spell Che gli permette di Scavare nei cristalli Cristallo incrinato non l'abbiamo mai letto Cristallo scheggiato Impuro Deteriorato E complessivamente insignificante Materiale per la creazione di oggetti Molto diffuso nelle gallerie cristalline E ci si fa che cosa? Cosa ci creo? Ok La scintipietra Del cuculò Quindi questi sono praticamente gli schiavi di Caria O direi allo Caria Sì 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 No Ok Uno scintipietrico frammento Io ti direi Se vogliamo fare Una chiacchierata Senza buttarci nella stream Di fermarmi qua Che puoi Visto che abbiamo Sei dinanzi a Finalmente aver visto questi incantesimi Stai per scendere Nelle profondità di questa grotta Ti fermi qua Poi c'è anche il boss Ovviamente di una miniera Ma niente Però così Facciamo le cosine Fine Per benino Senza fretta Esatto esatto Meanwhile Il cristalliano Avevo un attimo voglia di giocare a Soul Calibur Ma touche Anzi no Chapeau Questa è veramente una citazione acuta L'ho apprezzata Super Soul Calibur Super Soul Calibur Ok È morto Però c'è un botto di roba che Ho lasciato indietro C'è un botto In realtà Un ascensore Hai visto il premio? Globo Cinereo Ho visto È molto Molto speciale Quel globo Cinereo Da offrire resti Delle vergini gemelle Per accedere a nove oggetti Ma ovviamente Ah aspetta Ah Già Le pie Il frammento scintipietra È quello per Che usavano anche per tutta quanta La grotta E invece Ah la pietra d'affoggiatura 1 e 2 È specialissimo Sì perché ti permette Di tirare su le armi appena prese Senza dover Utilizzare i tuoi materiali Insomma Le puoi comprare Lì intanto c'è una roba Io ci andrei Comunque proverò Dragon's Dogma A sto punto Eh mi piacerebbe Recuperarlo anche a me È veramente un titolo Che da merita Di essere sfiorato Diciamo Eh sì E rispondo anche io A alcuni messaggi Che erano arrivati in chat Secondo me Arrivati a questo punto Non è una presa per il culo Arrivati a questo punto No 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 Basta Lo sapete Cosa state andando a prendere Cioè lo sappiamo Sono d'accordo Con quel revert Cioè non ti compi Rebirth Pensando che sia Un'altra volta Qualcosa che vuole seguire La storia originale No no ragazzi Veramente Io lo so come si riempirà Internet Ma a quel punto Si passa veramente A essere dei clown Perché non potete Dinanzi a quello Che è stato presentato qui Dire Ma non è lo stesso Ok E sono stati Per alcuni Secondo me Giustamente Molto antipatici E scorretti Perché Comunque Capisco la voglia Di stupire i fan Capisco la voglia Di cambiare le carte in tavola E da creativo Porca miseria Temo quanto Sarei stato vicino A Nomura In questa cosa Però Lo hai pubblicizzato In maniera sporca Perché Non si fa Il primo intendi Si il primo Ma da adesso in poi Ragazzi Anzi Sarò contento Sarò contento di vedere Quanto congrue Saranno certe cose In nome di come Le cambieranno dopo Perché Final Fantasy VII Fa parte adesso Di una compilation Diversa E il VII esiste Anch'io l'avrei voluto Remake Però non posso Non essere curioso E ci saranno Molte parti Uno a uno Secondo me Quindi ci sta Ci sta Ma Internet Si riempirà Di cazzate Innominabile Lo immagino Però ecco Secondo me Arrivati a questo punto Non può Cioè Ha parlato chiaro Il trailer Poi magari è brutto No Quello è un altro Par di maniche Capito Lo giochi E dici Madonna che merda Che era Esatto I personaggi Sono stati violentati Perché non Si Non sono loro Non vivono dei contesti Credibili Però Aspettarsi Gli stessi A questo punto È follia Mamma mia Che cosa ho fatto Mamma mia Tutto questo Per una forgiatura Funerata Vabbè Così Eh ma Tu sei Stato in posti Molto pericolosi Quindi Mamma mia Maron Rucardo Ok Let's go E niente Posso uscire Adesso Dovrei aver visto Tutto Mi leggo Ragazzi Due oggetti Che Avevo trovato Ovvero Un coltellino Pazzo Se non sbaglio Cos'era Allora Forse Un'arma Ecco Si Coltello Di cristallo Si Coltello originato Dall'affilatura Di un robusto cristallo Arma caratteristica Dei minatori Di scintipietra Essendo usato Per estrarre scintipietra Dalle rocce In frantumi La lama Si perma In eterno Di una flebile magia Certo Eh qui Ne estraevano Ragazzi Di scintipietra Per farci Anche proprio Le spell Per gli scemi Come L'ambiente Ci racconta Perché loro Esatto E poi Avevo droppato Un incantesimo Si Quello Dei minatori Ecco Qua lo trovo E alla sopra Si Sinistra Sinistra Eccolo Strigoneria Scintipietra Dell'accademia Di Rea Lucaria Infonde magia Nella ghiera Del bastone Dell'esecutore Che può Conficcarlo a terra Per generare Un'ondata magica Permette di eseguire Un attacco Supplementare Strigoneria Scavapietra Usata dai minatori Della galleria Di scintipietra Presso l'accademia Tuttavia Questa tecnica Eravvolta Da uno stigma Associato Agli studiosi Falliti Beh certo Appunto Ti vogliono far capire Che sono spell Da scemi Vediamo l'intelligenza Che serve Per far sta roba 15 Che è relativamente Bassa Bom Maestro Che vogliamo fare Ragazzi Taxol suo L'ho fatto Alla tavola Della grazia perduta Ci siamo davvero Il mio timore È che Molti ragazzi Non hanno capito Che avremmo ripreso Elden Ring In mano Quindi non vorrei Fargli perdere Sì Ho visto molti Salutare All'inizio Non avevano Ok Allora Quindi Non voglio Fargli perdere Le cose Dipende Cosa è cosa Nel senso Ti spiego L'arciccia È palesemente Tornare alla tavola È Quindi Se vuoi continuare Si può Non Cioè Forzatamente Non tornare E cominciare E cominciare Caelid Allora Oppure Posso chiederti una cosa Certo Posso In questo fine live Concludere ciò che ho iniziato Quello che ho fatto anch'io Molto romantico Molto romantico Indeed Io non ci sono riuscito A fare quella cosa Vi ricordate Ovviamente Eri spaventato Ci ho provato Tante volte Ma non è andata bene Ma adesso Sono passati Tanti livelli Ok Ok Quindi credo sia il momento Beh Allora Ti invito a fare Un doppio Diciamo Una doppia Risoluzione di Lose hands Questa Anche la grotta Bravo E la miniera Che ti spaventò Che fermò Pav Maledetto bastardo Mi ricordo di te Adesso non mi fai danno Coglione Fai un cazzo adesso A terra A terra Ho detto Basta No Ma come ti permetti Bam Madonna Quanto sono diventato Grosso Forte Che Elden Ring È bello anche per questo Sì Ma Te l'ho detto La progressione La sentirai tanto Sì sì Io ti schippavo Bastardo Tira sta freccia Tira Tira sta freccia Bastardo Tira Tira questa freccia Di merda Tira questa freccia Di merda Eh Che fai Non tiri le frecce Stai per cadere Stai per cadere bro Stai attento Stai attento bro Stai attento bro Cadi così eh Stai attento Stai attento È pericoloso Ah che fai Sbatti i piedi Stai attento bro Sei caduto Ma non mi hai neanche Hittato una volta Ma non mi ammazzavi A ruota Bastardo di merda Eh Eh No Mortocosino Hitt Eh brutta merda Stai molto attento Loro Non sono loro Non sono i golem E io ho un perry Hai un nuovo perry Con tanti frame È vero Esattamente Pottone Off gridone Andiamo Maledetto piece of shit Dai dai Facciamo l'arena Dai Eh Eccoci Tournament arc Comincia adesso Dai Eccoti qua Ok Cazzo Ho fallito il perry Di nuovo Non è da me A fallire i perry Perché li sto fallendo Eh ma Oh nice Finalmente Ha una mano Ha comunque Tantissima vita Il bastardo Madonna Nei danni Quanta cazzo Ho rotti Considera che Loro Sano Veramente Spugne Va bene Va bene Userò Una diversa Strategia Non male Dai Oh No Eh non importa Non credo Tocca a me La mia spada è più lunga Coglione E ora No Boom Let's go Yes Vieni fuori Il prossimo Ah devo Devo sceglierlo io Lei lanciava le spell Ricordo male Dai Tira le tue spell Di merda Forse non era lei A lanciare le spell Fuck Oh 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 grande diventerai uno dei quattro giocatori al mondo che li ha combattuti legit incredibile un golo sbloombiano tournament arc esatti ragazzi stiamo giocando a fuzzis sono d'accordo c'è sto giocando a un picchiaduro l'ultimo l'ultimo è qui marika dammi la forza marika stiz datemi la forza per l'ordine aureo ok uno di loro usa le spell ma non ricorda chi eccolo volevo perriarlo eh oddio oddio no no il muro no 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 la telecamera di merda mi ha inculato perché qui c'era una barriera è stata una barriera a fregarti no allora è stato provare a perriarlo ah touche questo è stato il vero problema beh ma tu hai tu hai forza adesso no? e puoi anche castarla si però no 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 maestro la tournament arc non mi interessa no 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 stasera volevi la tournament arc ed avrai la tournament arc che si possono buttare di sotto ma lui è schippabile l'altro che non va schippato No 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 La mia Tournament Arc Va giocata Full legit Legit Esatto Ma che cazzo Vabbè È caduto? Colpito dall'altro Che coglioni È morto Tu pensa se avessi la luna attiva Eh lo so ma Coglione come sono le ho sprecate tutte La prossima volta Le userai con rispetto Bene Sono pronto Cominciamo No no voglio lui Gli altri ormai li conosco Voglio lui Per l'inizio di Kayle Magari Joel Te ne passerà qualcuna Così puoi vivere l'esperienza Va bene Figa Con il power up Non credo Ah può castare comunque Ok No sì Questo copazzo Yes No Via Via Yes God Vabbè Eh no caro Cosa fai? Cosa fai? Un mitra di cazzi Un mitra di cazzi Ecco Il nome ufficiale della spell Raia Lucaria Mitra Lucaria Mitra di cazzi Ho creato Un mitra di cazzi Ah Ok Numero due No volevo essere scorretto Pungolo di sblombo Pungolo di sblombo Cattiva questa Caricamento di sblombo scorretto Scambio di colpi Avvicinamento alla barriera Rollino Potere dell'upgrade Della spada di spade Stamina finita Caricamento bastardo Pungolo di sblombo di nuovo Sì in predict Ammazza Adesso ancora salterà Pungolo di sblombo Caricamento Dettora stabile Caricamento Yes Ne manca uno Io otterrai un premio Manca l'ultimo Danno anime questi? Credo Due miei Due k Ok allora non le uso Le zampe di gallina No 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 Per carità Ti dico io Caricamento stronzo Sei godo Pungolo di sblombo Pungolo di sblombo Pungolo di sblombo Ancora Caricamento Sì Stance rotta Di nuovo colpo alle spalle Ancora Rollino Pungolo di sblombo Via Pungolo di sblombo No Oddio Pungolo di sblombo Tocca a me Rollino No 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 Non ti permettere Non puoi fermare il rollino Non ti permettere È mio Scambio di colpi Bevi la estus O te ne via Oh mio dio Sì Grande La vittoria è presa Esausto Guardò il cielo scarlatto E non comprese per un attimo Se erano i suoi occhi Pieni di sangue del nemico Attrarre la sua vista in inganno O un cielo marcescente Ricordi di una nocron esplorata Molti giorni prima E di un pav debole Apparvero In visione Ma ora ci siamo Il torneo Tre senza luce Sta per cominciare È fatta Nel cielo rosso di Caelid Posso parlare con lui Adesso Arsenale del grande vaso Cosa fa? Amuleto che ricorda Un enorme vaso Traboccante d'armi Incrementa ampiamente Il peso massimo Dell'equipaggiamento Talismano conferito Dal grande vaso I suoi guerrieri Trasporta Più possibile Per diventare grande e forte Beh giustamente Un vaso Beh Lo uso Perché ragazzi Ne avevo già uno Quindi adesso posso Magari vestirmi più pesante Oh beh Questo è l'euro di Havel Praticamente Sì? Sì E allora aspetta Cambia tutto Dobbiamo finire Con Il nuovo outfit Di Pav Non ho troppo Morte così Direi lui Questo è proprio Un set Ray Alucarico Cioè Ray Alucarico Lei è indelliano Oppure No Sono un fattro L'anello di Carico pesante Infatti Carico medio E così E allora Beh sì La spada pesa molto Però Ehi Joel Anche tu Potrei Potrei diventare Il tuo primo cavaliere I pantaloni Che vincanza Non sono Quelli del tuo set Ma io non li merito Però Questo potrebbe Divenire il tuo mantello Stai molto bene Mi piace Guarda come sono agile Adesso Beh direi che possiamo Concluderla qui Ci sta Sì Assolutamente Dipende solo Se vuoi fare la miniera O meno Non mi sento così Fresco da fare La miniera Più che altro A livello Esplorativo Percorso di Kaylid Allora Avete ragione Comunque I piedi da pape Ragazzo Non va bene Meglio Eh no I piedi da pape Sono terribili Ti Ti fanno male Al fashion No 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 Eccomi Io ho le corna da bestia Io ho le corna da bestia Però ci sta Quindi Andiamo Alla grazie a livellare E la prossima volta apriamo Con La tavola rotonda Qualunque cosa Ci sta Per noi E poi Dopo la tavola rotonda Direttamente Kaylid Che ne dici Beh perfetto Sarà Sarà Super Sarà super Sarà che belli che siamo Fighissimo Hai avuto anche tu un upgrade estetico Grazie a questo ultimo talismano È perfetto Tu non hai proprio il mio set però Oh no sì In realtà il sopra sì E il sotto pure Non lo so Tu che cosa hai come No no il sotto Per me per ora è Completo Ok Mi metto I guanti scheletrici però Sono brutti Mi metto Pasciature da stregone No Non sono da pav Ma la braccia da campione Sì già metto Tanto so Tranquillo So quale sarà un'armatura Che probabilmente ti metterai Sì sì Yes Maestro Bellissimo La ringrazio per la live E abbiamo fatto anche un 15 a fede Ottimo 15 a fede è un buon punteggio Abbiamo fatto anche un 15 a fede Così potremo fare presto la magia dello stealth Che ho visto prima Fantastico Che ha 18 Super Andiamo a raidare chi però Perché mi sa che non c'è Il buon Diego Oggi è Giovedì Quindi no Immagino Oggi non è Diego Quindi Mi dica lei Vediamo un po' Fammi vedere Salva che non ci siano come sempre gli input Le lascio l'onore Cavolo non c'è mai nessuno Beh a questo punto Vediamo un po' Chat Cosa ne pensate Cosa ne pensate Avete un nome Un canalino Che magari qualcuno di voi segue Qualcuna sorpresa Qualcuno di piccolo Gravier c'è Gravier Non lo scrivono in chat Però non so se c'è No non è online Controllato E' un po' Ma Vediamo se Eh sì sì no è vero Ci sono Player Inside Ma li raidiamo Spesso i ragazzoni Quindi stavo Stavo cercando Qualcuno di più Sorprendente Che non se lo aspetta Tipo Mario Draghi Eh sì Lui Potremmo andare Da Ah Aspetta 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 Perché è online Ah Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Andiamo Allora Te lo Te lo faccio scrivere Dalla chat Brian Farey Me l'avevi già fatto raidare Una volta Tanto tempo fa No Final Fantasy Ah ecco Brian Farey Ce l'ho Ce l'ho So come si scrive Oh yeah Allora buona serata Buon riposo Grazie mille Maestro Grazie mille E arriveremo a Kaylee A Kaylee E' fatta E' fatta No ma abbiamo Abbiamo fatto I Lusens Sto bellissimo Molto bene Tra l'altro con una Grande intro Secondo me quindi Assolutamente Grazie mille Buonanotte Buonanotte A domenica Yes Ah Comunque bella live Bella live ragazzi Però Ho voglia Di Cioè Nel gameplay PvE Mi piace usare Quest'arma Molto roleplay Però Mi piacerebbe provare A fare PvP Con qualcosa di diverso Perché che palla E' un one trick pony Sta cosa del ciottolino Veramente un one trick pony E mi vedevo Impazzire per le rune Non preoccupatevi Non contano niente Le rune in questo personaggio Perché Non lo faccio livellare più E ho in dono Talmente tante rune Del lord E quello che voglio comprare Lo compro infinitamente Per me L'apice delle rune È stato prenderle Dallo skip E quello È ciò che serve Come ricordo Della rune Io Ragazzi Vi tengo Aggiornati Con Tutto ciò che sarà L'upgrade E l'update Di Sutorima Sta arrivando Sarà importante E speciale Sappiate anche che Sono contento Di aver condiviso Con voi l'evento E aver fatto una discussione Grazie di cuore Vi tengo Super updated Ne vedrete Veramente delle belle Buona serata Salutate il nostro ragazzone Che starà sicuramente Speculando su Final Fantasy Visto che ha dedicato La live a questo Farò lo stesso in futuro Buon Riposo A presto ragazzi